Buongiorno a tutti, sono Mauro Trimigliozzi, fondatore di Filippi Martins. Filippi Martins è un'azienda cosmetica nata nel 2010. Grazie al nostro sistema, grazie alla nostra filosofia, grazie alla nostra credibilità, noi siamo presenti in 60 paesi del mondo e questo ci contraddistingue proprio perché noi non vogliamo piacere un po' a tutti ma moltissimo a pochi. Oggi vi voglio parlare di Casa Filippi Martins. Casa Filippi Martins che cos'è? È un concetto nuovo, un modo nuovo di vivere il salone proprio perché dalla mia vision il parrucchiere ha bisogno di avere un'azienda a fianco in grado di poterla aiutare su quello che riguarda il retail, su quello che riguarda la comunicazione, su quello che riguarda la consulenza. Casa Filippi Martins oggi non è solo un prodotto ma un sistema. La mia vision qual è? Quella di dare l'opportunità al cliente, sia estetista che parrucchiere, di dare tutto quello che è il nostro mood, tutto quello che è il nostro mondo Filippi Martins. bisogna cambiare secondo me la mentalità del come fare il negozio Casa Filippi Martins. creando un negozio prima retail e poi concept store. Questo per dare l'opportunità al cliente di poter scegliere tutti i nostri prodotti che partono da quello che è lo shampoo, il conditioner, fino ad arrivare ai prodotti per il viso, fino ad arrivare ai prodotti come il deodorante, il profumo, la crema a corpo, il dentifricio, tutte queste cose che hanno un'anima e che permettono praticamente di far sì che il cliente non possa uscire senza un prodotto. Uno degli aspetti più importanti oggi che ci dà la possibilità di essere contraddistinti è il fatto che il nostro prodotto è venduto online con il 25 per cento in più. Quindi se un cliente va dal parrucchiero, dal consulente, dall'estetista, può acquisire e acquistare il prodotto con il 25 per cento in meno e avrà anche una consulenza dedicata. Questo per far capire anche la serietà del nostro brand. La nostra filosofia è stata concepita con uno spot partito ancora dieci anni fa, distinguersi per non estinguersi. La diversificazione oggi conta tantissimo, soprattutto quando si parla di qualità. E quando parlo di qualità non si parla di ingredienti, ma di servizi, di prodotto, di quello che gira attorno per poter dare al cliente tutto quello che necessita. Quindi noi abbiamo creato un sistema che non è basato solo sui prodotti, ma su questa globalizzazione dove mettiamo dentro il concetto di casa Filimartis, la consulenza, il marketing diretto al cliente. Abbiamo fatto tutto ciò per far sì che la visibilità renda un lusso sostenibile anche per questo tipo di clientela. Perché parliamo di lusso sostenibile? Parliamo di lusso sostenibile quando noi mettiamo gli ingredienti migliori che possono esistere oggi fatti in Italia, che possono essere biodegradabili e che non contengono ingredienti tossici, chimici, che possono fare mare a chi lo utilizza tutti i giorni e al cliente che poi lo utilizza e che abbia un prezzo giusto proprio per dare un valore aggiunto. Oggi il problema principale è che molte persone usano il prodotto senza spiegarlo, senza dare un valore aggiunto. Questo mobile si chiama Front Wash ed è un mobile dove contiene i prodotti per poter fare una consulenza mirata, un accessorio che permette di fare una pre-scelta di quello che è il prodotto mirato per la propria cliente. Quindi si fa un'analisi, si fa una consulenza, si sceglie assieme qual è il prodotto giusto e mirato da poter utilizzare, si passa dietro la lavatesta e si fa il trattamento. Ovviamente il Front Wash diventa solo un accessorio se non diamo continuità poi a quello che è la nostra visione. Il futuro del parrucchiere deve essere più contemporanea, quindi far sì che praticamente oltre allo spazio dove il professionista può fare qualsiasi tipo di servizio, debba essere abbinata a una receptionist in grado di poter dare una consulenza per poter vendere il prodotto. Ovviamente abbracciamo tutto questo sistema grazie anche alla nostra Tommy Academy, una serie di servizi che possono andare dal corso di taglio al corso di taglio master, alla colorimetria, tutto uno staff dedicato per poter dare qualsiasi cosa che il cliente abbia bisogno, sia per quanto riguarda la parrucchiera, sia per quanto riguarda l'estetista o le spa manager. Quindi vorrei concludere dicendo che Casa Fili Martins è un brand, è un logo, è un qualcosa che permetterà a voi di potervi distinguere, di poter dare un servizio completo, di poter fare una consulenza, di poter avere quel credo che oggi bisogna recuperare per far sì che tutti i clienti possano sentirsi bene e possano acquisire tutto quello che voi potete trasmettere. Buon lavoro a tutti! Grazie a tutti!